Milady e cavalieri, prendete posto alla tavola rotonda di Reward 2 e benvenuti e benvenute, bentornati e bentornate qui in una nuova puntata di Canto di Natale di Charles Dickens. Andiamo subito a leggere la seconda strofa, il primo dei tre spiriti. Quando Scrooge si svegliò era così buio che guardando dal letto quasi non riusciva a distinguere il vetro trasparente della finestra e delle pareti opache della stanza. Stava cercando di scrutare nell'oscurità con i suoi occhi da furetto quando la campana di una chiesa vicina battea i quattro quarti. Così, al fine di conoscere l'ora, si mise a contare rintocchi. Con suo grande stupore, la pesante campana proseguì da sei a sette e da sette a otto e via via fino a dodici. Qui si fermò. Dodici. Erano le due passate quando era andato a letto. L'orologio sbagliava. Doveva esserli finito un ghiacciolo nei meccanismi. Dodici. Piggiò la molla del suo orologio a ripetizione per correggere quella discrepanza assurda. Il rapido pulsare del piccolo apparecchio arrivò a dodici e si fermò. Ma non è possibile, disse Scrooge, che abbia dormito per tutto il giorno fino alla notte seguente. Inoltre, non è possibile che adesso sia mezzogiorno e che sia capitato qualcosa al sole. Essendo un'idea allarmante, sgattaiolò fuori dal letto e a tentoni si diresse verso la finestra. Fu costretto a strofinare via la patina ghiacciata con la manica della vestaglia prima di poter vedere qualcosa. E anche allora non gli riuscì di vedere un granchie. Tutto ciò che riuscì a percepire fu che c'era ancora molta nebbia e faceva ancora estremamente freddo, tanto che non si udiva l'andirivieni di gente ed è col seguente baccano, come se, indubbiamente, la notte avesse sconfitto la luce del giorno e si fosse impossessato del mondo. Di per sé fu un gran sollievo, perché se non ci fosse più stata la possibilità di tener conto dei giorni, il pagherò al signor Ebenezer Scrooge o al suo legale a tre giorni dalla presentazione di questa prima cambiale non sarebbe stato altro che una garanzia americana. Scrooge tornò a letto e pensò, ripensò, ci pensò ancora e ancora, ma senza cavarne niente. Più pensava, più era perplesso. E più si sforzava di non pensarci, più ci pensava. Il fantasma di Marley l'aveva molto turbato. Ogni volta che si dava la risposta, dopo una matura riflessione, che era stato tutto un sogno, la sua mente tornava al punto di partenza, come una molla lasciata libera, e presentava lo stesso problema da elaborare. Era stato un sogno oppure no? Scrooge rimase in questo stato fino a che l'orologio ebbe macinato altri tre quarti, quando ricordò, di colpo, che il fantasma lo aveva avvertito di una visita al rintocco del luna. Decise di rimanere a letto, sveglio, finché l'ora si fosse compiuta. E considerando che aveva più probabilità di ritrovarsi in paradiso che di prendere sonno, questa fu, forse, la psaggia decisione nelle sue facoltà. Il quarto d'ora durò così a lungo che più di una volta si convinse di essersi appisolato inconsciamente e di aver saltato l'orario. Alla fine, questo irruppe nel suo orecchio teso. Ding dong! Mezzanotte un quarto, disse Scrooge contando. Ding dong! E mezza, disse Scrooge. Ding dong! Una meno un quarto, disse Scrooge. Ding dong! L'una in punto, disse Scrooge trionfante. E nient'altro! Aveva parlato, prima che la campana battesse, cosa che accadde subito dopo una profonda, sorda, cupa, malinconica vibrazione. All'istante, la luce lampeggiò nella stanza e le cortine del letto vennero scostate. Le cortine del letto furono scostate, vi dico, da una mano. Non quelle ai piedi del letto, non quelle sopra la testata, ma quelle verso le quali era rivolto il suo viso. Le cortine del letto vennero scostate e Scrooge si tirò su in posizione reclinata, trovandosi faccia a faccia con l'ultraterreno visitatore che le scostò, così vicino come lo siamo voi e io, spiritualmente, gomito a gomito. Era una figura bizzarra, simile a quella di un bambino, però non tanto come un bambino, ma piuttosto come un vecchio che, visto attraverso un qualche strumento soprannaturale che lo allontanava dalla vista, era ridotto alle proporzioni di bambino. I capelli che li ricadevano sul collo e lungo la schiena erano bianchi per l'età, eppure il viso non aveva una sola ruga e la pelle era fresca come quella di un bocciolo. Le braccia erano molto lunghe e muscolose e così le mani, come se la loro presa fosse di una forza non comune. Gambe e piedi, dalle forme delicate, erano, come gli arti superiori, nudi. Indossava una tunica di un bianco immacolato e attorno alla vita portava una cintura scintillante la cui lucentezza era bellissima. Teneva in una mano un ramo fresco e verde di agrifoglio e, in netto contrasto con quel simbolo invernale, aveva l'abito decorato da infiorescenze estive. Ma la cosa più strana in lui era che dalla sommità della testa scaturiva uno sfavillante getto di luce che illuminava ogni cosa intorno. Ed era senza dubbio per questo che portava con sé un cappello, in quel momento sotto il braccio, che fungesse da oscurante nei momenti meno opportuni. Ciononostante, quando Scrooge lo ebbe guardato con maggiore attenzione, notò che non era la sua caratteristica più strana. Così, come la sua cintura brillava e scintillava ora in un punto, ora in un altro, e dove vi era la luce e il momento dopo vi era il buio, così la figura intera fluttuava in sue mutazioni. Aveva ora solo un braccio, ora solo una gamba, ora venti gambe, ora un paio di gambe senza testa, ora una testa senza corpo, e di queste parti in dissolvenza i contorni si facevano invisibili nella fitta oscurità in cui si disperdevano. E nel mezzo di questo fenomeno la figura tornava a essere se stessa, chiara e distinta come prima. «Siete voi, signore? Lo spirito la cui vista mi era stata preannunciata?» domandò Scrooge. «Sono io?» La voce era delicata e gentile, singolarmente bassa, come se invece di essere così vicino a lui si trovasse distante. «Chi siete?» «E che cosa siete?» domandò Scrooge. «Sono il fantasma del Natale passato!» «Lungamente passato?» incalzò Scrooge, osservando la sua statura da nano. «No, del tuo passato!» Forse Scrooge non avrebbe saputo spiegarne il motivo a chi glielo avesse chiesto, ma desiderava in particolar modo di vedere lo spirito con il cappello in testa, e a tal fine lo pregò di indossarlo. «Che cosa?» esclamò il fantasma. «Vorresti già spegnere, con le tue mani mondane, la luce che io dono? Non è sufficiente che tu sia uno di quelli le cui passioni hanno creato questo cappello e che mi hanno imposto nel trascorrere degli anni di indossarlo ben calato sulla fronte?» Scrooge declinò riventemente ogni intenzione di offendere e ogni consapevolezza di aver mai, in qualsiasi periodo della sua vita, volontariamente incappellato lo spirito. Si fece poi coraggio chiedendo quale fosse il motivo della sua presenza. «Il tuo benessere», disse il fantasma. Scrooge si dichiarò molto riconoscente, ma non poteva fare a meno di pensare che una notte di riposo ininterrotto sarebbe stato più utile alla causa. Lo spirito dovette udire il suo pensiero perché subito disse «La tua redenzione, allora!» Bada! Mentre parlava, allungò la possente mano e lo afferrò con delicatezza per il braccio. «Alzati e cammina con me!» Sarebbe stato inutile da parte di Scrooge far presente che le condizioni atmosferiche e l'orario non erano adatti a una passeggiata, che il suo letto era caldo e il termometro al di fuori, ben al di sotto dello zero, che lui era vestito leggero, in pantofole, vestaglie e berretto da notte e che in quel periodo era raffreddato. A quella prese, benché lieve come quella di una donna, sarebbe stato impossibile resistere. Si alzò, ma vedendo che lo spirito si dirigeva verso la finestra, si aggappò alla sua tunica per supplicarlo. «Io sono un mortale!» rimarcò Scrooge. «Finirei per precipitare!» «Basta solo un tocco della mia mano lì!» disse lo spirito ponendogliela sul cuore, «e sarai sollevato anche da altre cose!» Pronunciate queste parole, attraversarono il muro e si ritrovarono sopra una strada in aperta campagna, fiancheggiata da campi agricoli. La città era totalmente scomparsa. Non se ne vedeva la minima traccia. L'oscurità e la nebbia erano svanite con essa, tanto che la giornata invernale si presentava limpida e fredda con il terreno coperto di neve. «Santo cielo!» disse Scrooge, congiungendo le mani e guardandosi attorno. «Qui dove sono cresciuto!» «E qui che passai la mia infanzia!» Lo spirito lo guardò con dolcezza. L'anziano percepiva ancora su di sé il suo tocco delicato, benché fosse stato lieve e non fosse durato che un attimo. Fiutava mille fraganze che alleggiavano nell'aria, che rievocavano mille pensieri e speranze e gioie e attenzioni da tanto, tanto tempo dimenticati. «Ti trema il labbro?» disse il fantasma. «E che cos'è quella cosa sulla guancia?» Scrooge mormorò con voce insolitamente incerta che si trattava di un foruncolo e implorò il fantasma di condurlo dove avrebbe voluto. «Ricordi la strada?» domandò lo spirito. «Se la ricordo!» esclamò con fervore Scrooge. «Potrei percorrerla bendato!» «Strano averla dimenticata per tanti anni!» osservò il fantasma. «Proseguiamo!» Mentre camminavano sulla strada, Scrooge riconosceva ogni porta, albero e cassetta delle lettere. Fino a quando in lontananza apparve un piccolo villaggio con il suo ponte, la sua chiesa e il fiume sinuoso. Alcuni poni dal pelo arrufato comparvero trottando la loro vista come dei ragazzi in groppa che chiamavano altri coetani a bordo di calessi e carretti guidati da fattori. Tutti questi ragazzi erano di ottimo umore e gridavano l'un l'altro tanto che i vasti campi furono così pieni di quelle sonorità gioiose che l'aria frizzante sembrava ridere e udirle. Non sono che ombre delle cose che furono disse il fantasma non sono coscienti della nostra presenza. I giocosi avventori si avvicinarono e a man mano Scrooge li riconobbe uno per uno e ne associò i nomi. Perché la loro vista lo rallegrava oltre ogni limite? Perché i suoi geli di occhi luccicavano e il suo cuore fece un tuffo nel vederli passare? Perché si riempì di gioia quando li sentì augurarsi reciprocamente Buon Natale mentre si separavano ad incroci e bivi per le rispettive abitazioni che cos'era un Buon Natale per Scrooge? Maledizione al Buon Natale quale bene li aveva mai portato? La scuola non è completamente vuota disse il fantasma un bambino solitario trascurato dagli amici e ancora presente. Scrooge disse che ne era conoscenza e sospirò. Lasciarono la strada maestra prendendo un vicolo che Scrooge ricordava e presto si avvicinarono ad una costruzione di mattoni rossi con una piccola cupola sul tetto sormontata da una banderuola segnavento e con una campana appesa all'interno. Era una grande casa ma ridotta gli ampi saloni erano in stato di abbandono i muri umidi e ammuffiti le finestre rotte e le porte sgangherate. Il pollame zampettava e si aggirava per le stalle le carrozze rimesse erano state invase dall'erbaccia. Neanche l'interno aveva conservato il suo antico stato. Entrando nel triste ingresso e guardando attraverso le porte aperte di molte stanze le trovarono spoglie fredde e desolate. C'era nell'aria un odore di terra nuda un freddo sterile che si associava in qualche modo ai risvegli al lume di candela senza un granché da mettere sotto i denti. Proseguirono il fantasma e Scrooge lungo l'ingresso attraverso una porta in fondo alla casa. Essa si aprì prima del loro passaggio rivelando una grande stanza spoglia malinconica resa ancora più spoglia da file di semplici panchi e scrivania. Seduto su una di queste un ragazzo solitario stava leggendo accanto a un flebile fuoco e Scrooge si lasciò cadere su una panca e lacrime alla vista del povero se stesso dimenticato che soleva essere. Non un eco latente nella casa non uno squittire l'azzuffarsi tra troppi nelle pennellature non una goccia dal rubinetto dell'acqua mezza gelata nello spento cortile posteriore non un sibilo tra i rami spogli di un desolato pioppo non un cigolio della porta di un vuoto magazzino no non un crepitio del fuoco che reggiasse nel cuore di Scrooge con il suo tepore dando sfogo alle sue lacrime. Lo spirito spirito li toccò il braccio e indicò la sua giovane figura intenta leggere. All'improvviso un uomo in abbigliamento esotico regale e distinto all'apparenza con un'ascia infilata nella cintola apparve all'esterno della finestra mentre conduceva delle briglie un asino carico di legname. Ehi ma è Ali Babà esclamò Scrooge in estasi il caro vecchio onesto Ali Babà sì sì lo riconosco un giorno di Natale quando quel ragazzo solitario fu lasciato qui tutto solo lui apparve sì per la prima volta proprio in questo modo povero ragazzo è Valentin disse Scrooge e il suo selvatico fratello Orson eccoli lì e com'è che si chiama quello che fu lasciato in mutanda addormentato davanti alla porta di Damasco non lo vedi è lo stagliere del sultano messo a testa in giù dai geni eccolo lì capovolto bellista ne sono felice come pensava di aver diritto di sposare la principessa udire Scrooge spendere tutto il fervore della sua indole su argomenti del genere e con un tono di voce insolito terriso il pianto e vederlo infervorato ed eccitato sarebbe stato davvero sorprendente per i suoi collaboratori da fare in città ecco il pappagallo esclamò Scrooge corpo verde e con la gialla come una specie di foglia di lattuga che gli spunta sulla testa eccolo lì povero Robinson Crusoe così lo chiamò quando tornò a casa dopo aver circunnavigato l'isola povero Robinson Crusoe dove sei stato Robinson Crusoe l'uomo pensava di sognare ma era sveglio era il pappagallo sapete ed ecco venerdì che cerca di salvarli attraverso il ruscello opla opla poi con un cambiamento di tono alquanto insolito per lui preso da pietà per il suo se stesso di un tempo disse povero ragazzo e ricominciò a pianigolare avrei voluto mormorò Scrooge mettendosi la mano in tasca e guardandosi intorno dopo essersi asciugato gli occhi con il polsino ma ormai è troppo tardi qual è la questione chiese lo spirito nulla disse Scrooge nulla ieri sera c'era un ragazzo che cantava un canto di Natale alla mia porta mi sarebbe piaciuto dargli qualcosa tutto qui il fantasma sorrise pensierioso e fece un cenno con la mano e disse vediamo un altro Natale a queste parole lo Scrooge di un tempo diventò più grande e la stanza si fece un po' più buia e sporca i pannelli si restrinsero le finestre si ruppero frammenti di intonaco caddero dal soffitto e mostrarono al loro posto i listelli di legno nudi ma come tutto ciò fosse avvenuto Scrooge non avrebbe saputo dirne più di voi sapeva solo che tutto si era svolto nella giusta maniera che le cose erano andate così che era lì nuovamente solo al contrario degli altri ragazzi andati a casa per trascorrere delle vacanze felici non era più immerso nella lettura ma andava avanti e indietro abbattuto Scrooge guardò il fantasma e scuotendo tristemente il capo lanciò uno sguardo ansioso verso la porta quando si aprì una bimba molto più piccola del ragazzo entrò di corsa e gettategli le braccia al collo baciandolo ripetutamente si rivolse a lui come il suo caro caro fratello sono venuta per portarti a casa caro fratello disse la bimba battendo le manine e chinandosi dalle risate per portarti a casa a casa a casa a casa piccola fan rispose il ragazzo si disse la bimba piena di gioia a casa una volta per tutte a casa per sempre nostro padre si è tanto rabbonito che adesso casa è un paradiso una sera prima di andare a letto mi parlò con tanta dolcezza che non ebbe timore di chiedergli ancora una volta se tu potessi tornare a casa e lui disse che si avresti dovuto e quindi eccomi qui a prenderti con una carrozza dovrai essere uomo disse la bimba spalancando gli occhi e non tornerai più qui ma per prima cosa dovremmo stare insieme per tutte le festività del Natale trascorrendo il tempo più gioioso del mondo sei diventata proprio una signorina piccola fan esclamò il ragazzo lei batte le mani e si mise a ridere e cercò di toccargli il capo ma essendo troppo minuta rise di nuovo e si alzò in punta di piedi per abbracciarlo poi cominciò a strattonarlo con tutto il suo entusiasmo infantile verso la porta e lui per nulla riluttante la lasciò fare una voce terribile tuonò all'ingresso portate giù il baule del signorino Scrooge sulla porta era apparso il direttore in persona che squadrò il signorino Scrooge con feroce superiorità e lo gettò in un orribile stato d'animo stringendogli la mano quindi condusse lui e la sorella nella vecchia bottigliera del salottino più gelido che si fosse mai visto dove persino le carte geografiche sulle pareti e i mappamondi nelle teghe erano smorti per il freddo qui tirò fuori una brocca di vino stranamente leggero e un pezzo di torta stranamente pesante e offrì quelle leccornie ai giovani mandando nello stesso tempo un magro inserviente a offrire un bicchiere di qualcosa al ragazzo delle consegne il quale rispose pur ringraziando il gentiluomo che si trattava di quello assaggiato in precedenza ne avrebbe fatto volentieri a meno dato che il baulo del signorino Scrooge era stato legato sul tetto della carrozza i ragazzi si accomitarono con piacere dal direttore della scuola e montarono sulla vettura che si avviò allegramente giù per il vialetto del giardino schizzando con le ruote veloci spruzzi di brina ghiacciata e di neve dalle foglie scure dei sempreverdi una creatura dedicata da sempre un soffio sarebbe bastato a scalfirla disse il fantasma ma aveva un gran cuore si l'aveva esclamò Scrooge hai ragione non posso negarlo spirito dio non voglia è morta che era una donna disse il fantasma ed ebbe penso dei figli un figlio ribatte Scrooge vero disse il fantasma tuo nipote Scrooge al pensiero parva a disagio e rispose brevemente con un si sebbene si fossero appena lasciati da scuola alle loro spalle già si trovavano nelle strade trafficate di una città dove ombre di pedoni passavano e ripassavano ombrosi carri e carrozze si contendevano la via e vi era tutta la conflittualità e il frastuono di una vera città era sufficientemente chiaro che all'allestimento dei negozi che anche qui erano nel periodo natalizio ma era sera e le strade erano illuminate il fantasma si fermò davanti alla porta di un certo magazzino e chiese a Scrooge se lo conoscesse conoscerlo disse Scrooge non è qui che ho fatto il mio apprendistato entrarono alla vista di un anziano gentiluomo con un welsh wing seduto dietro una scrivania così alta che se fosse stato 5 cm in più avrebbe sicuramente picchiato la testa contro il soffitto Scrooge gridò eccitatissimo ma è il vecchio Fatswig dio lo benedica è Fatswig Redivivo il vecchio Fatswig depose la penna e guardò l'orologio che segnava le 7 si sfregò le mani si sistemò l'ampio gilet si lasciò attraversare tutto da una risata dalle scarpe all'organo preposto alla benevolenza e con voce confortevole burrosa ricca grassa gioviale chiamò ehi di là Ebenezer Dick lo Scrooge di un tempo ormai diventato giovanotto entrò a passo vivace accompagnato dal suo compagno apprendista Dick Winkins certo disse Scrooge al fantasma santo cielo si eccolo lì quanto mi ero affezionato Dick povero Dick caro carissimo Dick ehi ragazzi miei disse Fatswig basta lavorare stasera è la vigilia Dick Natale Ebenezer su le imposte disse il vecchio Fatswig battendo forte le mani prima che si possa dire Jack Robinson non credereste come questi due compari si misero all'opera si precipitarono in strada con le imposte uno due tre le misero al loro posto quattro cinque sei le sbarrarono e le bloccarono sette otto nove e furono di ritorno prima che foste riusciti ad arrivare a dodici anzi mando come cavalli da corsa ehi oh gridò il vecchio Fatswig saltando giù dall'altra scrivania con un'agilità stupefacente sgombrate tutto ragazzi miei e facciamo un bello spazio qui ehi oh Dick su Ebenezer sgombrare non c'era niente che non avrebbero sgombrato o che non avrebbero potuto sgombrare sotto lo sguardo del vecchio Fatswig fu fatto in un minuto tutti gli oggetti trasportabili furono impacchiettati come se fossero rimossi per sempre dalla vita pubblica il pavimento fu spazzato e lavato le lampade smoccolate il carbone ammucchiato nel focolare e il magazzino venne trasformato in un'accogliente sala da ballo pulita, calda, asciutta e splendente di quelle che adorereste visitare in una notte d'inverno arrivò un violinista con i suoi spartiti e salendo sull'alta scrivania ne fece un podio da orchestra e accordò lo strumento con suoni come 50 mal di pancia arrivò la signora Fatswig tutta un gran sorriso arrivarono le tre signorine Fatswig raggianti e adorabili arrivarono i sei giovani ammiratori a cui avevano spezzato il cuore arrivarono tutti i giovani e le giovani che lavoravano nell'azienda arrivò la domestica con suo cugino il fornaio arrivò la cuoca con il miglior amico del fratello il lattaio arrivò il ragazzino dall'altra parte della strada di cui si aveva il sospetto non ricevesse abbastanza vitto dal suo padrone cercava di nascondersi dietro la ragazzina della casa a fianco di cui si aveva la certezza ricrevasse grandi tirate di orecchia dalla sua padrona arrivarono tutti quanti uno dopo l'altro chi timido chi spavaldo chi aggraziato chi impacciato chi spingendo e chi tinando insomma arrivarono tutti in un modo o nell'altro e tutti insieme partirono venti coppie alla volta mani incrociate per metà davanti e metà di dietro giù nel centro della sala e di nuovo su giri e rigiri di figure raggruppate affezionatamente la vecchia coppia che conduceva la danza che svoltava sempre nel punto sbagliato la nuova coppia conduttrice che ripartiva arrivata a quel punto alla fine erano tutte coppie conduttrici e nessuno in coda a sostenere quando si giunse a questo punto il vecchio Fetzwig batte le mani per fermare la danza ed esclamò ben fatto e il violinista tuffò il viso accaldato in un boccale di porter preparato a quel preciso scopo ma disdagnando il riposo ricominciò subito a suonare anche se non c'erano ancora ballerini come se il violinista di prima fosse stato portato a casa esausto su una barella e lui fosse uno nuovo deciso a soppiantare il precedente o a morire vi furono altre danze e giochi di società e altre danze ancora e la torta e il negus e un gran pezzo di arrosto freddo e un gran pezzo di bollito freddo e pasticci di carne e birra in quantità ma il culmine della festa si presentò dopo l'arrosto e il bollito quando il violinista un vero segugio batate il tipo d'uomo che sapeva il fatto suo e a cui né voi né io avremmo potuto insegnare alcun chi è attaccò Sir Roger de Coverley allora il vecchio Fetzwig si fece avanti per parlare con la signora Fetzwig coppia di testa oltretutto in un pezzo impegnativo da dover affrontare con 23 o 24 coppie in coda persone con cui non si doveva scherzare persone che volevano ballare e non avevano nozione dei passi ma anche se fossero state il doppio ah quattro volte tanto il vecchio Fetzwig sarebbe stato all'altezza e così la signora Fetzwig quanto a lei era degna di essere la sua partner in tutti i sensi della parola se non è questo un complimento sufficiente suggeritemene uno migliore io lo userò una luce benevola sembrare scaturire dai polpacci di Fetzwig risplendevano in ogni passo della danza come delle lune non avreste potuto prevedere come avrebbero fatto il momento dopo e quando il vecchio Fetzwig e la signora Fetzwig ebbero eseguito tutti i passi avanzata e ritirata entrambe le mani al partner rinchino con riverenza giravolta figure del passaggio d'ago ritorno alla posizione precedente Fetzwig sforbiciò così abilmente che sembrò fare un occhiolino con le gambe per infine di rialzarsi senza tentennamenti quando l'orologio batte le undici il ballo casalingo si concluse il signore e la signora Fetzwig presero posizione ai due lati della porta e stringendo la mano a ogni singola persona che usciva che fosse un lui o una lei le auguravano un buon Natale quando furono usciti tutti tranne i due apprendisti fecero la stessa cosa anche loro e con le voci allegre si spensero e i ragazzi furono lasciati ai loro letti che si trovavano sotto un bancone del retro bottega per tutto questo tempo Scrooge si era comportato come un uomo fuori di sé cuore e anima avevano partecipato alla scena con la sua giovane incarnazione confermava ogni cosa ricordava ogni cosa gussava ogni cosa sotto l'influenza della più straordinaria eccitazione fu solo in quel momento quando i volti gioiosi del suo giovane sé e di Dick volsero altrove che si ricordò del fantasma e si rese conto che lo stava fissando intensamente mentre la luce che proveniva dalla testa ardeva lucentissima basta così poco disse il fantasma per far sentire questi sciocchi così pieni di gratitudine così poco ripete Scrooge lo spirito gli fece segno di ascoltare i due apprendisti che avevano aperto i loro cuori per elogiare Fedswig e poi quando l'ebbe fatto disse perché non lo è non ha speso che qualche sterlina della vostra valuta terrena tre o quattro peraltro è così tanto da meritarsi tutti questi elogi non è quello disse Scrooge infervorato da quel commento e parlando inconsciamente più come il suo giovane se che quello attuale non è quello spirito lui ha il potere di rendere felice o infelici di rendere il nostro servizio leggero o gravoso un piacere o una fatica diciamo che il suo potere sta nelle parole e negli sguardi in cose così sottili e insignificanti che è impossibile contarne e farne la somma e allora la felicità che dona è grande come se costasse una fortuna sentì addosso lo sguardo dello spirito e si fermò cosa c'è chiese il fantasma niente di particolare disse Scrooge io penso che qualcosa ci sia insistette lo spirito no disse Scrooge no è che in questo momento mi piacerebbe poter dire uno o due porolini al mio impiegato ecco tutto mentre esprimeva quel desiderio il giovane si è di un tempo spense le lampade e Scrooge e il fantasma si ritrovarono nuovamente fianco a fianco all'aria aperta il tempo a mia disposizione si sta esaurendo osservò lo spirito presto l'esclamazione non era rivolta a Scrooge né ad alcun altro che lui potesse vedere ma l'effetto che produsse fu immediato perché Scrooge vide nuovamente se stesso adesso era più vecchio un uomo nel fiore degli anni il suo viso non aveva ancora i linamenti aspri e rigidi degli anni a venire ma cominciava a mostrare i segni dell'inquitudine e dell'avarizia c'era negli occhi un irrequieto moto avido e bramoso che rivelava il punto dove avevano attecchito le radici della passione e dove sarebbe caduta l'ombra dell'albero in divenire non era solo ma sedeva accanto a una bella ragazza vestita a lutto con gli occhi colmi di lacrime scintillanti alla luce brillante che proveniva dal fantasma dei natali passati poco importa disse flebilmente a te pochissimo un'altra idolatria mi ha rimpiazzata e se nel futuro potrà darti sollievo e conforto come io avrei cercato di darti non ho motivo di disperarmele quale idolo avrebbe preso il tuo posto domandò lui un idolo dorato questa è l'imparzialità del mondo disse lui non c'è nulla su cui si accanisca quanto la povertà è nulla che dichiari di condannare più severamente del desiderio di arricchirsi tu hai troppa paura del mondo replicò lei con dolcezza tutte le tue speranze sono confluite in un'unica la possibilità di superare le sue sordide critiche ho visto le tue nobili aspirazioni cadere una dopo l'altra finché la passione suprema il guadagno ti ha inghiottito non è così? e quindi ribatté lui anche se fossi diventato più saggio qual è il problema? nei tuoi confronti non sono cambiato lei scosse la testa lo sono? il nostro era un contratto vecchio lo stipulammo quando eravamo poveri e avevamo accettato di esserlo fino a che in tempi migliori saremmo riusciti a migliorare la nostra condizione terrenaco paziente laboriosità tu sei cambiato a quei tempi eri un altro uomo era un ragazzino disse lui spazientito le tue stesse sensazioni ti comunicano che eri differente da quel che sei diventato ribatté lei io sono ancora la stessa persona ciò che prometteva felicità quando eravamo un unico cuore ora porta sofferenza da che ci siamo divisi non voglio dirti quanto spesso e con quanta pena ho rimuginato su questa cosa ti basti sapere che ci ho pensato e posso lasciarti libero te l'ho mai chiesto? con le parole no mai e come allora? con un cambiamento della tua natura con un'alterazione dell'indole con il diverso modo di vivere con un'altra speranza come ultimo fine con tutto ciò che rendeva il mio amore prezioso o di valore ai tuoi occhi se non ci fosse stato tutto questo tra di noi disse la ragazza guardandola appena con le lacrime agli occhi dimmi adesso mi cercheresti proveresti a conquistarmi ahimè no lui parve cedere suo malgrado alla correttezza delle argomentazioni ma combattuto disse tu pensi di no sarei ben felice di pensare diversamente se potessi rispose lei lo sai il cielo una volta appreso una verità come questa so quanto forte e inoppugnabile possa essere ma se tu fossi così libero oggi domani ieri potrei mai io credere che sceglieresti una ragazza senza dote tu che nei momenti di confidenza più intimi valuti ogni cosa sul guadagno o che scegliendo lei se in quel momento tradissi i tuoi ideali non saresti poi braccato dal pentimento dal rimorso io credo e ti lascio libero con tutto il cuore in nome dell'amore che potrai per colui che fossi lui stava per parlare ma lei voltando la testa dall'altra parte riprese tu potresti il ricordo del passato me lo fa quasi sperare soffrire per questo un po' di tempo molto breve e liquiderà il ricordo con sollievo come il risveglio da un sogno infruttifero dal quale ti sei fortunatamente svegliato che tu possa essere felice nella vita che hai scelto lei lo lasciò e i due si separarono spirito disse Scrooge non mostrarmi altro riportami a casa perché ti diletti nel torturarmi ancora un'ombra esclamò il fantasma no basta esclamò Scrooge basta non voglio vederla non mostrarmi altro ma inflessibile il fantasma lo placò tra le braccia e lo costrinse a osservare ciò che accade dopo erano in un altro scenario un altro luogo una stanza non molto grande o bella ma piena di comodità accanto al fuoco invernale sedeva una bellissima fanciulla così somigliante alla precedente che Scrooge pensò si trattasse della stessa finché non riconobbe lei ora un'avvenente signora seduta di fronte alla figlia si diva un gran chiasso poiché nella stanza c'erano più bambini di quanto Scrooge nella sua confusione mentale potesse contare e a differenza del greggio della celebre poesia non erano 40 bambini che si comportavano come fossero uno bensì l'esatto opposto il risultato era un baccano al di là di ogni immaginazione ma sembrava che nessuno ci facesse caso anzi madre e figlia ridevano di cuore essendone molto compiaciute e quest'ultima preso parte ai giochi venne presto depredata dai piccoli spietati briganti che cosa non avrei mai dato per essere uno di loro anche se io non avrei mai potuto essere tanto rude no no per nulla mondo avrei potuto tirarle le trecce sciogliendole e la preziosa scarpetta mai avrei potuto strappargli la che Dio mi assista nemmeno per aver salva la vita quanto a misurarle per gioco la vita come fece quella audace e nidiata non avrei mai potuto farlo mi sarei aspettato che per punizione le braccia mi rimanessero curve attorno ai fianchi senza più tornare dritte eppure lo ammetto mi sarebbe molto piaciuto toccarle le labbra porgli delle questioni perché le aprisse guardarle le ciglia degli occhi abbassati senza vederla arrossire sciorlierli i capelli andulati di cui un solo centimetro sarebbe stato un tesoro inestimabile in breve mi sarebbe piaciuto lo confesso poter godere delle libertà concesse ad un bambino rimanendo sufficientemente adulto per apprezzarne il valore ma a quel punto si sentì bussare alla porta e subito ne esegui un tale trambusto che lei sorridente e con l'abito stropicciato fu tracinata verso di essa al centro di quel gruppetto scalmanato e chiassoso giusto in tempo per accogliere il padre che era incasava accompagnato da un uomo carico di giocattoli e regali natalizi che urla e che lotta ci furono durante l'assalto all'inerme facchino lo scalarono con delle sedie a modo di scale per frugargli nelle taschie lo depredarono dei pacchietti di carta marrone lo presero per la cravatta si cinzero al collo lo presero a pugni nella schiena e a calci nelle gambe in un modo d'affetto irrefrenabile le grida di stupore e gioia che scaturirono all'apertura di ogni pacchietto il terribile annuncio che l'infante era stato colto nell'atto di ficcarsi in bocca la pentola della bambola il sospetto che avesse inghiottito un tacchino finto e incollato su un piattino di legno e l'immenso sollievo nello scoprire che era stato un falso allarme la gioia e la gratitudine e l'estasi tutte cose che non si possono descrivere basta sapere che poco alla volta i bambini e le loro emozioni uscirono dal salotto e un gradino alla volta raggiunsero l'ultimo piano dove si placarono coricandosi Scrooge osservò la scena più attentamente che mai quando il padrone di casa con la figlia che si gli appoggiava affettuosamente si sedette con lei e la madre davanti al suo focolare e quando pensò che un'altra creatura altrettanto graziosa e promettente avrebbe potuto chiamarlo padre ed essere una primavera nel miserabile inverno della sua vita la vista lì si offusco per davvero Belle disse il marito rivolgendosi sorridente alla moglie questo pomeriggio ho visto un tuo vecchio amico chi? indovina? come posso? ma non so poi aggiunse ad un fiato ricambiando la risata il signor Scrooge era il signor Scrooge sono andato passato davanti alla finestra del suo ufficio e siccome non era chiusa e aveva una candela accesa non ho potuto fare a meno di scorgerlo ho sentito che il suo socio giace in punto di morte e di fatti lui se ne sta lì da solo completamente solo al mondo credo spirito disse Scrooge con voce spezzata portami via da questo posto te l'avevo detto che queste erano ombre delle cose che furono disse il fantasma sono quello che sono non puoi farne una colpa portami via ripete Scrooge non posso sopportarlo si voltò verso il fantasma e vedendo che lo guardava con una faccia che in qualche modo strano conteneva frammenti di tutte le facce che questi gli aveva mostrato li balzò addosso lasciami in pace riportami indietro smettila di affliggermi nella lotta se lotta si può chiamare quella in cui il fantasma senza opporre resistenza visibile rimaneva imperturbato e qualsiasi affondo del suo avversario Scrooge osservò che la sua luce ardeva forte e luminosa e collegando vagamente questo fatto all'influenza che aveva su di lui afferrò il cappello oscuratore e con una mossa improvvisa glielo calò sulla testa lo spirito collassò sotto di esso tanto che l'oscuratore ne coprì l'intera forma ma sebbene Scrooge premesse con tutta la sua forza non riusciva a sopprimere la luce che fuori usciva da sotto in un flusso ininterrotto sul pavimento si rese conto di essere esausto e sopraffatto da un'irresistibile sonnolenza e inoltre di trovarsi nella propria camera da letto gli ha dal cappello un'ultima stretta prima che la presa della sua mano venisse meno ed ebbe il tempo di barcollare verso il letto prima di sprofondare in un sogno profondo Milady e Cavalieri ci vediamo al prossimo video sempre qui alla tavola rotonda di Revo Artù grazie a tutti